Esattamente una settimana fa a bordo del treno Piacenza-Bologna centrale delle 12.14 vi erano quattro passeggeri. Questa mattina invece i viaggiatori erano una quarantina per lo più persone che, con l'inizio della fase 2 e la conseguente diminuzione delle restrizioni hanno colto l'occasione per ricongiungersi ai familiari in altre città. Io lavoro come medico a Parma nelle unità speciali di continuità assistenziale e sono bloccato a Parma dall'inizio della quarantena e andavo a lavoro con una macchina che mi ha prestato un mio amico e visto che oggi è il primo giorno dove gli spostamenti sono un minimo più consentiti torno a casa dalla mia famiglia e prendo la macchina di mia mamma e torno giù a Parma. Sono stato bloccato due mesi dal 25 febbraio che sono a Milano e devo rientrare a casa ora che posso, infatti ho approfittato oggi, è una necessità. Le regole per viaggiare in sicurezza sono sempre le stesse obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri passeggeri. I controlli sono a discrezione del capotreno mentre l'acquisto dei biglietti per il momento è esclusivamente online. Sui bus non è cambiato tanto rispetto a qualche giorno fa i passeggeri invece sono nettamente aumentati. C'era molta gente stamattina? Sì, è più viva dell'altra settimana diciamo così, ecco, da oggi si è visto molto più movimento invece l'altra settimana proprio c'era nessuno. Per quanto riguarda la sicurezza? Ci sono i posti che è stata l'azienda che li ha transennati e noi dobbiamo tenere le distanze come tutti poi qui vicino non possono venire vicino all'autista e basta tutto lì, viene rispettato tutto per adesso tutti hanno la mascherina tutti viaggiano molto regolarmente è tutto regolare per adesso. Controlli come il solito, i controlli sono sempre i verificatori vengono su, controllano i biglietti e tutto quanto solito, non è cambiato niente via diciamo. La rifa rimane la stessa? Sì.